Ma questi dissensi, questi tweet diretti Facebook sono secondo lei vere oppure diciamo è un po' un gioco delle parti? È un egoismo, sono degli egoisti che pensano ai propri partiti e non pensano al bene comune del paese perché sono tweet e litigi che avvengono in un paese in ginocchio dove crolla la produzione industriale, aumenta la cassa integrazione, aumentano le crisi delle aziende e si sono staccati dalla vita delle persone. Hanno iniziato a dire prima gli italiani ma gli italiani sono le prime vittime di questo insopportabile chiacchiericcio.